Devo però farvi vedere questa fotografia e ricordare la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli. Eccola qui, che è morta la notte scorsa a Cosenza, nella sua abitazione. Sembra per un malore, forse un malore cardiaco. Era da anni malata di tumore, Iole Santelli era stata nominata, proclamata il 15 febbraio di quest'anno Presidente della Regione Calabria, cioè governatrice, la prima donna a governare la Calabria, già deputata di Forza Italia, era stata anche sottosegretario alla Giustizia. E quindi ci uniamo anche nel ricordo di Iole Santelli. Ovviamente in questo momento siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi parenti. Peraltro si dovranno poi celebrare nuovamente le elezioni in Calabria. C'è stata, come sapete, recentemente un'ultima tornata. Vuoi dire qualcosa a proposito di... Ma la conoscevo ed era una persona molto piacevole. Era una donna impegnata in politica, con grande passione, grande convinzione e anche grande lucidità. Io ricordo un'intervista in diretta fatta qui sulla Sette con Giletti, forse a maggio, in cui lei diceva che noi non abbiamo ancora risolto i nostri problemi sanitari e se ci dovesse capitare un'ondata come quella che è capitata in Lombardia, per noi sarebbero guai grossi, guai seri. Temo che siamo ancora nelle stesse condizioni. Sì, peraltro dalle testimonianze, tra cui quella di un suo amico e collega di partito, il sindaco di Cosenza, un chiudo, sembra che stesse in buone condizioni, molto attiva, stava lavorando proprio a fronte di questa seconda nuova ondata, con la Calabria che sappiamo è una regione che dal punto di vista sanitario ha dei problemi immensi. Lei l'ammetteva proprio senza remore? Sì, senza nascondersi.